Sul palco PESH, avanti PESH, che cazzo con me? Questa è musica dance, per me questa è musica dance. Ma non parla nessuno, guarda. Muoviti PESH! Coglione! Ma che è il cervello? Lui è PESH! Quattro mila anni fa, gli egizi costruirono il primo canale in assoluto. Il primo in Gran Bretagna fu costruito dai romani, il Fosdijk a Lincoln. Questo è il Rochdale Canal del 1804, quando Manchester era la più grande città industriale al mondo. E ha il loro degrado, rispecchia il declino industriale post bellico della Gran Bretagna. E ha il loro degrado, rispecchia il declino industriale post bellico della Gran Bretagna.